Tara è una giovane ragazza di 17 anni. Una sera, mentre faceva la babysitter, sente bussare alla porta. Convinta che siano semplicemente i genitori del bambino rincasati prima, la ragazza va ad aprire, ma si blocca improvvisamente. Fuori dalla finestra c'è un uomo inquietante. Tara si gira e corre dal bambino, è spaventata, ma poco dopo fanno ritorno i padroni di casa. Dello sconosciuto fuori dalla finestra non c'è più traccia e la ragazza decide di archiviare l'accaduto. Un anno dopo, Tara lavora da Subway quando un uomo entra nel ristorante. Non ha dubbi, lo riconosce subito, è lo stesso uomo che aveva visto fuori dalla finestra un anno prima. È agitata, ma decide di ignorarlo e passa il cliente ad un suo collega. Alla fine l'uomo rimane seduto a fissarla per due ore senza dire o fare niente. Poi, come se niente fosse, l'uomo si alza, paga e se ne va sempre in silenzio e senza mai distogliere lo sguardo dalla ragazza. Tara è spaventata a morte, ma non è finita qui. Qualche sera dopo, inizia a ricevere diversi messaggi da numeri di telefono sconosciuti. Decide di ignorarli e una sera l'uomo si presenta di nuovo al ristorante. Questa volta Tara è sola ed è terrorizzata. Il suo telefono vibra, le arriva un altro messaggio. L'uomo le dice di controllare il telefono. Lei sgrana gli occhi e scappa nel retro, si nasconde, è spaventata. Fa per chiamare il 911, ma l'uomo inizia a bussare con insistenza alla porta dell'area dello staff, chiusa a chiave. Terrorizzata, Tara scappa dalla porticina sul retro, lasciando l'uomo da solo al ristorante. Appena è in strada, sgrana gli occhi e scoppia in lacrime in un pianto liberatorio. La polizia è già lì, qualcun altro deve averli chiamati. Finalmente è in salvo. Durante gli anni Sessanta infervoriva la corsa allo spazio, l'incredibile gara tra Stati Uniti e Unione Sovietica per conquistare l'ancora inesplorato cosmo. Il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin divenne il primo essere umano a raggiungere lo spazio, ma in realtà non fu il primo a tentare. Il primo fu Vladimir Komarov, suo amico, un cosmonauta che salpò per lo spazio sapendo già che quella cui andava incontro era una missione suicida. La sua capsula spaziale, la Soyuz 1 infatti, non era ancora pronta per una missione del genere, ma per i vertici sovietici la pressione di battere sul tempo gli Stati Uniti era troppa. Così, il 23 aprile del 1967, Komarov salutò sua moglie ed entrò nella sua capsula con le lacrime agli occhi, nonostante i tentativi dei suoi compagni, Gagarin per primo, di fermarlo. Il giorno successivo la Soyuz 1 si schiantò a terra e di Vladimir Komarov rimasero solo i resti carbonizzati, che oggi, alla necropoli delle mura del Kremlino, è il più alto onore per un cittadino sovietico. Questi due fratellini californiani volevano fare qualche soldo, così decisero di mettere su un banchetto in cui vendere caramelle. Comprarono una scatola di caramelle l'uno e piazzarono la loro attività fuori ad un negozio e si rivelò essere molto proficua. C'erano dei giorni no, ovviamente, ma ce n'erano anche altri in cui vendevano decine di caramelle. Una mattina, un'anziana signora si avvicinò ai bambini ed iniziò a rimproverarli. I piccoli restavano in silenzio, mortificati, mentre la donna alzava sempre più la voce e diventava sempre più aggressiva. Alla fine, un uomo che passava di lì non resistette davanti a quella scena. Si avvicinò e quello che fece lasciò l'anziana signora a bocca aperta. Non solo le disse che non aveva alcun diritto di mancare di rispetto ai due bambini in quel modo, ma comprò anche un'intera scatola di caramelle e lasciò ai due fratellini una banconota da 100 dollari. Un uomo della città tedesca di Magdeburgo si è fatto vaccinare contro il Covid-19 ben 90 volte per vendere Green Pass contraffatti a persone che non volevano invece sottoporsi al vaccino. L'uomo, un sessantenne il cui nome non è stato rilasciato, è stato fermato nell'aprile del 2022 in un centro vaccinale della Sassonia, quando si è presentato per ricevere la seconda dose di vaccino in due giorni di fila. La polizia lo ha arrestato ed ora è indagato per rilascio non autorizzato di tessere di vaccinazione e falsificazione di documenti. Quali effetti avranno tutti questi vaccini sulla salute del sessantenne non si può ancora sapere.